In ultimo per questa sezione del corso andiamo a vedere al volo come si effettuano le tematizzazioni, ad esempio partendo da questo raster delle pendenze andiamo a visualizzare come vengono praticamente riprodotte queste pendenze, andiamo a cercare di capire quali sono le aree con pendenza maggiore rispetto a quelle con pendenza minore. Quindi andiamo in proprietà, ora è impostato single band gray quindi c'è una scala di grigi e potremmo andare a impostare ad esempio single bar pseudo color e potremmo scegliere una color ramp di tipo, come vedete le color ramp sono i gradienti, le gradazioni di colore poiché questo tipo di rappresentazione dà proprio una gradazione di colore quindi una variazione di colore in funzione di un determinato fenomeno in questo caso è la pendenza, scegliamo questo tipo di visualizzazione e qui abbiamo un'anteprima sono praticamente in modalità continuous automaticamente impostate a 5 classi ma io qui posso andare a modificare l'intervallo di visualizzazione in equal interval andando praticamente a aumentare ad esempio fino a 10 le classi di visualizzazione ricordando che il minimo è 0 e il massimo è 87 gradi in questo caso tra l'altro posso fare anche uscire, far comparire quello che è il suffisso qui per mostrare appunto che sono gradi se clicco ora su applica, in corrispondenza di questo che è il mio raster sono cambiati i colori all'interno del canvas e posso vedere che le aree con questo giallo sono praticamente aree orizzontali e man mano che aumenta poi l'intensità di rosso si va fino a quasi 90-90 gradi questa è una delle possibilità con cui è possibile andare a tematizzare un raster e andiamo a vedere come è possibile andare a tematizzare un vettore ritornando al discorso che abbiamo fatto in qualche sezione precedente relativa appunto ai livelli nominali, ordinali, intervallo, rapporto ad esempio questo qui ora saprai che è un livello di rappresentazione di tipo nominale se volessi effettuare una rappresentazione di tipo ordinale andando a vedere all'interno di quella che è l'attribute table di questo vettore ad esempio scelgo la colonna leggenda, vado in proprietà, categorized classifica, lui associa automaticamente una serie di colori a quelli che sono i dati presenti nella colonna leggenda e qualora ci fosse una cella senza un dato comparirebbe di questo colore generalmente non è presente questo tipo di informazione almeno questa è la corilla in cover per cui sono tutte quante celle campite quindi posso benissimo andare a eliminare e cliccate quindi su applica e come vedi è stata ottenuta una visualizzazione differente in cui è possibile andare a vedere con colori distinti le tipologie di utilizzo del suolo e se utilizziamo l'identify future possiamo ad esempio andare a vedere in maniera molto più rapida diciamo che andiamo a interrogare direttamente il vettore cliccando con il sinistro qui si apre questa maschera in cui è possibile vedere tutte le informazioni relative al vettore su cui abbiamo alla geometria su cui abbiamo cliccato quindi ritornando con il pan un'ulteriore modalità di visualizzazione è l'intervallo rapporto ad esempio graduated quindi scegliamo in questo caso come color ramp quindi possiamo scegliere ad esempio non so, scegliamo questa qui e scegliamo l'area in ettari come visualizzazione a questo punto utilizziamo benissimamente la modalità di equal interval classify ci sono cinque classi quindi lui ha riprodotto cinque classi e in realtà potremmo anche andare a invertire questo tipo di visualizzazione per andare a invertire i colori far partire con il giallo e far terminare con il blu però in questo caso andiamo tranquillamente a cliccare su applica e quindi come puoi vedere il poligono con un'estensione maggiore è questo qui e possiamo anche andare a vedere cosa è è il bosco di latifogli e nello specifico possiamo anche andare a studiare l'istogramma di questa rappresentazione di questo vettore cliccando su load value per vedere qual è la rappresentazione migliore del nostro dato possiamo dire che c'è una frequenza maggiore di poligoni a piccola estensione quindi magari potremmo andare a cambiare l'intervallo di visualizzazione con un quantile per permettere ad esempio una migliore visualizzazione di questi poligoni quindi con il quantile si sono andati a ristringere quelle che sono le classi quindi potremmo anche scegliere un natural breaks per un'ulteriore visualizzazione e in funzione di quelle che sono insomma le nostre necessità di visualizzazione possiamo scegliere le modalità di classificazione per questa sezione del corso è tutto ti aspetto nella prossima